Oroscopo del giorno. Martedì, 7 novembre 2023. Ariete. Amore. Sarà un martedì tranquillo e poco travolgente dal punto di vista dei sentimenti, delle emozioni. In ogni caso sarà una giornata che potrete ben trascorrere in compagnia di chi avete al vostro fianco. Lavoro. Sarà un giorno in cui potrebbero arrivare delle ottime notizie professionali per voi, non smettete di impegnarvi. Toro. Amore. Tanto amore vi travolgerà durante questa nuova giornata del mese. Potrebbe essere un martedì molto interessante, sia per chi è in coppia e sia per chi è ancora single, e vorrebbe provare una nuova emozione. Lavoro. La vostra carriera è in crescita, ma ricordate che la vostra dedizione sarà un punto fondamentale. gemelli. Amore. I single potrebbero metterci un po' a lasciarsi andare, in quanto saranno molto critici nelle nuove conoscenze. Tutto abbastanza tranquillo per chi è impegnato già in una relazione. Lavoro. Giornata produttiva per il lavoro. Potrebbero arrivare delle novità o delle nuove occasioni utili. Cancro. Amore. Un giorno pieno di amore, tutto da godere nel rapporto con il proprio partner. Per oggi però, anche per chi è single potrebbero arrivare momenti speciali e passionali. Lavoro. I vostri obiettivi professionali saranno raggiungibili. Sarà un momento interessante e soddisfacente per il vostro lavoro. Leone. Amore. Sarete irresistibile agli occhi di chi vi guarda. Questo sarà un aspetto estremamente positivo per le relazioni, sia per chi è in coppia, e sia per i single che si vogliono approcciare a qualcuno. Lavoro. Professionalmente, per voi sarà una giornata assolutamente ottimale, con novità, risultati e riscontri. Vergine. Amore. L'affetto del partner sarà fondamentale, ma oggi non sarete poi così presi dall'amore. Le stelle odierne non porteranno verso delle grandi novità per i rapporti, soprattutto per chi è ancora single. Lavoro. Ottimo il vostro atteggiamento nei confronti del lavoro, degli impegni e dei progetti professionali. Bilancia. Amore. Durante questa nuova giornata del mese ci sarà da emozionarsi, da vivere emozioni in coppia, o anche con una conoscenza tutta nuova. Davvero un buon martedì. Lavoro. Il vostro costante impegno vi porterà dritti verso dei grandi risultati, che magari attendevate già da un po'. Scorpione. Amore. Tutto sereno, ma quasi piatto. Durante questo martedì di novembre non dovrete avere delle aspettative troppo alte per l'amore. Le stelle non vi porteranno delle grandi novità. lavoro. Lavoro. Attenzione a non correre troppo. Ogni decisione da prendere dovrà essere prima pensata. Sagittario. Amore. Poco movimento in amore anche per oggi. Sarà un martedì senza cambiamenti, per le coppie o per i single. La giornata proseguirà per voi in modo piuttosto stabile, da routine. Lavoro. Un giorno buono, molto positivo per il vostro lavoro. Sfruttate le situazioni al massimo, per trarne dei vantaggi utili a scopi professionali. Capricorno. Amore. Le stelle vi regaleranno una bellissima giornata in amore, e quindi potrete contare sui rapporti, sulle emozioni che verranno. Per oggi non si escludono nemmeno delle novità in campo sentimentale. Lavoro. Cambiamenti positivi per il lavoro, per la vostra personale carriera. Molto bene. Acquario. Amore. Buona comunicazione e tanto amore per le coppie che stanno insieme. Non è escluso che durante la giornata in corso potrebbero arrivare emozioni e novità, pure per chi è single. Lavoro. Concentratevi, in modo tale da ottenere ciò che desiderate di più sul posto di lavoro. Le stelle odierne vi sosterranno. Pesci. Amore. Potrete vivere la vostra storia d'amore con il partner al massimo della serenità. Sarà un martedì che vi piacerà, e che potrebbe riservarvi delle emozioni speciali, anche se siete single. Lavoro. Sarete abili ed organizzati. Un aspetto che vi servirà molto durante questa nuova giornata lavorativa. Grazie. Grazie. Grazie.